Ciao a tutti amici di Infiniti Racconti del vostro Brigius, al mio fianco Anto Cappellotti di Paglia e dall'altra parte della Puglia Da Biceglia in trasferta c'è Nico Janz, amici di Infiniti Racconti, siamo qui per proporvi un nuovo promo per la nuova puntata del nostro Infiniti Podcast La nuova puntata di Infiniti Podcast è caricata e online sul nostro accanto Mixcloud che trovate in descrizione Di cosa andremo a parlare? Di tante cose, di alieni, di Marco Columbro, di Papa Ignoranti, di Trump, di botte sull'ano, di tutto di più Quindi mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella e andate a sentirvi Infiniti Podcast sul nostro account Mixcloud, link in descrizione Ciao